Buonasera dal Tg della Mobilità. Il 21 marzo, quarto e ultimo appuntamento di stagione con le domeniche ecologiche. Nella fascia verde sarà vietata la circolazione di auto e moto dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Sono come sempre previste deroghe anche per coloro che devono recarsi nei centri vaccinali, ma ricordiamo che le regole della zona rossa in vigore vietano tutti gli spostamenti tranne per motivi di lavoro, necessità o salute. Le altre notizie, controllo elettronico della corsia preferenziale in Viale Regina Margherita, la telecamera sarà di nuovo in funzione dal 29 marzo tutti i giorni, 24 ore su 24. L'impianto sanziona i veicoli non autorizzati che percorrono la corsia riservata invece al trasporto pubblico. La telecamera era spenta da inizio gennaio sia per lavori di potatura sia per installare il cordolo a protezione della stessa corsia. Per il momento è tutto e per oggi è tutto. Il Tg della Mobilità torna domani mattina. Grazie a tutti.